Servente per pallina Questa è una servente universale Infatti, come potete ben vedere Vi entrano tutte le palline che noi abbiamo in catalogo Dalla più piccola alla più grande Come vedete si tiene molto bene la pallina E quindi non può cadere Ben fatta Tiene molto molto bene Addirittura può contenere una pallina di spugna Queste sono le palline da moltiplicazione Le mostrate una e diventa due Quando tutta l'attenzione è rivolta qui Voi intanto rubate segretamente la pallina dalla servente Tendete Ovviamente nessuno vi vieta di inserire due serventi Una vicina all'altra Oppure una da una parte E l'altra dall'altro lato In modo da avere più palline da caricare durante la vostra esibizione A presto A presto A presto Grazie a tutti.